Parte da oggi il doppio senso, è una buona proposta questa per Crotone? Sicuramente sì, è un discorso come quello precedente in via sperimentale, ora abbiamo cambiato alcune vie come per esempio la via Raimondi che verrà percorsa in senso inverso, naturalmente è ancora migliorativo rispetto alla precedente. Tutto avviene a seguito di studi anche fatti sul territorio, quindi siamo convinti che sicuramente è migliore. Per i commercianti è un problema? Non di certo, si tratta di abituarsi, perché secondo me il cliente una volta che conosce il negozio se la strada viene cambiato il senso di marcia ci va ugualmente a comprare. Quindi si tratta solamente non solo per il cliente, ma anche per il pedone, anche per il conducente di veicolo si tratta di abituarsi alla nuova segnaletica. Quindi si sale per andare verso via Risorgimento, però per via Raimondi bisogna fare il giro da dietro? No, via Raimondi così come è fatta dà anche la possibilità ulteriore di percorrere a chi viene da via Messinetti di salire e andare nella zona del giudice di pace, dove ci sono gli uffici dell'Enel e così via. E naturalmente c'è anche qualche sblocco in più con questa nuova segnaletica per quanto riguarda l'entrata al centro storico.